Eccoci qua di nuovo, ciao da Luca, come sai questa serie di video è esclusivamente dedicata alla fotografia fine art ed in particolare a tutti quei fotografi che vogliono sviluppare al meglio anche il proprio lato autoriale e artistico per vendere le proprie opere e le proprie immagini a clienti e collezionisti sparsi davvero in tutto il mondo. In particolare nel video di oggi ti mostrerò quali sono inizialmente i tre ostacoli che bloccano da sempre fotografi e artisti nel riuscire a sviluppare una carriera di successo nel mercato dell'arte dopodiché vedremo soprattutto come di solito il mondo esterno, gli addetti ai lavori, quindi editor, galleristi, curatori, giornalisti, clienti, collezionisti, advisor, dealer vedono la tua figura, quindi come ti percepiscono. Soprattutto ti mostrerò perché devi assolutamente evitare di confermare i loro sospetti se non vuoi finire nella classica casella dei bocciati ed essere quindi relegato nelle ultime posizioni sia a livello di vendibilità che a livello di interesse da parte del mercato. Al termine del video, come sempre, avrai la possibilità di poter prenotare una call strategica completamente gratuita di circa 45 minuti con uno dei nostri advisor sostanzialmente in questa call gratuita andremo a fare uno screening a 360 gradi della tua attività in questo esatto momento cercando di capire quali sono gli errori, gli ostacoli, le difficoltà che stai incontrando e dopodiché ti forniremo un piano completo step by step per passare da A a B quindi per riuscire effettivamente a raggiungere nel breve e medio periodo i risultati che ti sei prefissato. Però mi raccomando, prenota la tua call gratuita solo dopo aver visto per intero il video di oggi. Noi ci vediamo dall'altra parte. Come fermarsi nel mondo dell'arte? Diciamo che questa è la domanda madre di tutte le domande. Prima però di capire come riuscirci è importante mettere a fuoco quelli che sono i tre grossi ostacoli che impediscono ai fotografi di crearsi una carriera nel mondo dell'arte con la A maiuscola. E questi tre grossi ostacoli sono il paradosso della semplicità, la psicologia d'acquisto e le credenze sbagliate. Cominciamo dal primo ostacolo, il paradosso della semplicità. Ora per comprendere bene il paradosso della semplicità è importante partire da una considerazione di fondo che in realtà è una vera e propria legge di mercato. Ed è questa. Più è accessibile un mercato, quindi senza barriere di ingresso economiche, di skill, di esperienza, più è difficile penetrarlo, emergere e quindi sfondare in quel mercato. Da adesso chiediamoci, il mercato della fotografia fan art è accessibile? Beh, insomma, ovviamente sì. Quindi estremizzando potremmo dire che per entrare nel mercato della fotografia fan art devi semplicemente scattare una foto, incorniciarla, caricarla su qualche galleria online senza, diciamo, necessariamente avere un tuo sito web personale e sostanzialmente il gioco è fatto. È chiaro che qui ho estremizzato un po' l'iter di produzione e commercializzazione delle immagini, però fondamentalmente diciamo che oggi una qualsiasi persona con una macchina fotografica in mano ma spesso anche con uno smartphone può accedere a questo mercato e teoricamente vendere la sua arte. Quindi nel mercato della fotografia fan art abbiamo una barriera di ingresso che è nulla o quasi nulla e dei costi di avviamento molto bassi. Facciamo qualche esempio. Non devi comunque aprire un negozio o una galleria per cominciare a vendere. Non devi comunque prendere un master all'università o avere una laurea o un certo tipo di certificazione. Quindi non devi fare un percorso studi che ti porta via anni. Non devi avere dei dipendenti. All'inizio puoi anche non avere i costi di magazzino. Puoi stampare usando i servizi di print on demand economici che ci sono in giro. Puoi vendere in tutto il mondo aprendo semplicemente un sito web. Quindi diciamo che non c'è nessun filtro apparente sulla qualità del tuo lavoro perché, ripeto, tutti teoricamente possono vendere le proprie opere sia online che offline. Da qui ne deriva che più c'è facilità di accesso in un mercato maggiore, come ti spiegavo, sarà la difficoltà di penetrazione. Quindi avrai maggiore difficoltà ad emergere. Nel contempo, meno è facile entrare in un mercato minore sarà la difficoltà di penetrazione perché il grosso del lavoro lo farai per entrare in quel mercato. Una volta entrato avrai meno concorrenti e quindi avrai anche meno difficoltà ad emergere e ad avere risultati. Quindi quali sono le conseguenze di quello che abbiamo definito il paradosso della semplicità? Per i fotografi una enorme concorrenza e saturazione quindi abbiamo dei prezzi a ribasso praticati dai fotoamatori che non devono comunque vivere di fotografia o magari costruirsi un reddito full time e una carriera a lungo termine al tempo stesso abbiamo spesso anche dei lavori che vengono dati via gratis per la pubblicazione in cambio di crediti. Questo perché, appunto, gli amatori hanno bisogno di pompare il proprio ego ma di certo non il loro portafoglio perché spesso fanno altro e non hanno interesse nel crearsi una carriera in questo mondo. Per quanto riguarda il punto di vista dei clienti abbiamo fin troppe opzioni quindi avendo questa varietà, questa enormità di possibilità di scelta spesso i clienti si trovano confusi nel momento in cui debbono scegliere e questo proprio perché l'offerta supera di gran lunga la domanda. E veniamo adesso al secondo ostacolo di cui ti parlavo ossia la psicologia di acquisto. Anche stavolta voglio passarti un concetto molto importante nella fotografia fan art crei fondamentalmente per esprimere te stesso e non per soddisfare una domanda specifica del mercato o i bisogni dei clienti. Facciamo degli esempi concreti e riferiamoci agli altri settori della fotografia quelli che un po' io definisco i settori tradizionali. Ad esempio il fotografo pubblicitario lavora sotto contratto per conto di un'azienda il fotografo di matrimonio soddisfa il bisogno delle coppie di immortalare il giorno delle nozze il fotografo di moda soddisfa l'esigenza di riviste, editori, case di moda e marchi e brand nell'avere delle immagini per le loro pubblicità per i loro cataloghi e per i loro magazine quindi nei settori tradizionali viene prima l'esigenza il desiderio e la necessità del cliente e soltanto dopo il lavoro del fotografo. Al contrario nel settore fine art viene prima il lavoro del fotografo e soltanto dopo ci si preoccupa di trovare dei clienti che sentano il desiderio di pagare per questo lavoro. Quindi abbiamo due processi, due percorsi che portano all'acquisto di immagini completamente differenti. Nei settori tradizionali infatti le motivazioni di acquisto vengono giustificate quasi sempre a livello razionale. In realtà come noi sappiamo, come tu stesso hai sperimentato sulla tua pelle la maggior parte degli acquisti che facciamo sono acquisti di pancia, di istinto, quindi emozionali che però noi come esseri umani tendiamo quasi sempre a giustificare a livello razionale. Quindi compriamo a livello emozionale giustifichiamo l'acquisto a livello razionale. Per quanto riguarda invece la fine art la componente razionale, la giustificazione razionale che viene dato all'acquisto è molto 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 più debole rispetto ai settori tradizionali. Del resto comprare arte non è come comprare un telefono. La maggior parte degli acquisti che facciamo sono in effetti motivati e giustificati dal concetto di necessità o almeno dalla percezione della necessità. Quindi sentiamo comunque di averne bisogno. Facciamo un esempio, l'acquisto di una casa, di un'auto, di un telefono, dei vestiti, del cibo. Comprare arte quasi mai ha a che fare invece con motivazioni logiche e razionali per cui ne sentiamo davvero la necessità. Proprio perché comprare fotografie fan art, ma in generale comprare arte, rientra nella sfera del lusso. La bellezza è comunque un lusso che ci concediamo. Non è un bene primario senza il quale crediamo di non poter vivere. Quindi parlando di psicologia d'acquisto arriviamo ad un concetto straordinariamente importante. Ed è proprio questo. Per vendere fine art, ricorda, sei tu che devi creare un'esigenza e un desiderio nella testa del cliente. Nei settori tradizionali invece è il cliente che viene da te perché ha già quella necessità e quella esigenza. Quindi tu dovrai essere soltanto bravo a soddisfarla e soprattutto a farti scegliere in mezzo alla concorrenza. Facciamo ancora l'esempio nel matrimonio. Se abbiamo una coppia di sposi che ovviamente deve convolare a nozze avrà comunque l'esigenza di trovarsi un fotografo di matrimonio. In fine art questo percorso, questo processo di acquisto in realtà non funziona in questo modo. Difficilmente, quasi mai, una persona si mette ad esempio su Google per cercare delle opere fine art da poter acquistare, da potersi mettere in casa, proprio perché appunto non ne sente una necessità impellente nella maggior parte dei casi. Questo è il motivo principale per cui molti artisti e molti fotografi oggi hanno difficoltà a penetrare il mercato dell'arte ed affermarsi, proprio perché non riescono a creare un'esigenza di acquisto reale nella testa dei clienti. Saper creare questa esigenza e desiderio di acquisto è il sacro graal del mercato dell'arte. Il terzo ostacolo sono quelle che io definisco le credenze sbagliate. Infatti nel nostro settore, molto più di altri settori, esistono delle credenze sbagliate che poi portano fuori strada tanti artisti e fotografi. La prima di queste è il credere che puoi delegare ad altri tutta l'attività di promozione e di vendita, ad esempio senza dover incontrare fisicamente cliente. Quindi la leggenda metropolitana che poi saranno gli agenti, galleristi, curatori, consulenti, gli altri advisor a fare tutto il lavoro sporco al posto tuo, quindi saranno loro che si preoccuperanno della vendita, della promozione, del contatto con i clienti e tu potrai restartene beatamente in casa a creare arte da qui per i prossimi 100 anni. In realtà non funziona così. Non puoi delegare totalmente ad altri tutta l'attività di promozione e di vendita. Un'altra credenza è il fatto di poter vendere dal tuo sito web. In realtà nella maggior parte dei casi non funziona quasi mai, proprio perché la domanda che devi farti è questa, ma perché i clienti dovrebbero venire sul tuo sito quando ce ne sono milioni di altri come il tuo, soprattutto se non hanno un'esigenza d'acquisto, sei tu che devi crearla? Quindi il fatto che comunque tu veda a fare a quasi tutti i fotografi, questo non significa che questa sia la strada corretta. Il tuo sito web è certamente un ottimo portfoglio che devi comunque avere, ma non puoi credere o sperare di vendere la maggior parte delle opere attraverso il tuo sito. Un'altra credenza è il credere che comunque non hai bisogno di vendere te stesso, quindi che la tua arte, le tue fotografie, le tue immagini parlino per se stesse. Oggi, ricorda, prima si vende il fotografo, l'artista, e soltanto dopo le sue opere. Se non comprendi questa differenza fondamentale rispetto al passato, parti già col piede sbagliato. L'ultima credenza, che in realtà è più che altro un'attitudine, è il concentrarsi troppo sul fare arte, quindi su te stesso, sul tuo ego, e troppo poco sulla divulgazione del tuo lavoro. Quindi devi creare assolutamente un piano di marketing, di vendita e di comunicazione. Bene, prima di proseguire nel nostro percorso, è importante fermarsi un attimo e mettere i cosiddetti puntini sulle i, su un aspetto davvero molto importante per la tua carriera di fotografo artista. Cioè, rifletteremo un attimino insieme su quello che è davvero il ruolo del fotografo oggi. Ti dico questo, perché devi affrontare in realtà di petto, prima di tutto, un problema nascosto, invisibile. Infatti, uno dei più grossi ostacoli che ti troverai ad affrontare nella tua carriera di fotografo artista, anche se poi in realtà nessuno te lo dirà mai, sarà proprio la percezione negativa che gli altri avranno di te. E quando parlo di altri, mi sto riferendo a clienti, collezionisti, galleristi, consulenti d'arte, curatori, editori e così via. Quindi, nella maggior parte dei casi, le persone ti vedranno come pessimo negli affari e quasi sempre povero in canna. Ha la ricerca di un modo facile per fare soldi, quindi non un grande lavoratore. In pratica è un po' la classica figura del fotografo artista che se ne sta nel suo studio in casa, a creare arte tutto il giorno, lasciando che siano poi gli altri a promuovere il suo lavoro e quindi a renderlo, tra virgolette, ricco e benestante. Un altro aspetto è che tantissimi fotografi artisti si stanno sempre e comunque alla ricerca continua di elogi ed apprezzamenti, cioè il fatto che tu voglia essere accettato a tutti i costi. Questo è un altro elemento debole, davvero molto debole, che spesso blocca, frena tantissimi fotografi. Un'altra etichetta che ti appiccicherà indosso è il fatto che sei privo di senso pratico e quindi incapace di prendere decisioni strategiche. Oltre a questo, sei anche pieno di aspettative irrealistiche sul tuo futuro, quindi tendi spesso a fare dei voli pindarici senza però poi aver creato delle basi solide, delle fondamenta solide per crearti appunto una carriera a lungo termine, sei spesso anche incapace di accettare compromessi, quindi magari preferisci perdere una vendita piuttosto che fare uno sconto o magari accontentare un cliente. Quindi il tuo comportamento agli occhi di curatori, galleristi, agenti e così via spesso non agevola gli affari, tutt'altro li danneggia. Inoltre appari sempre poco furbo e scaltro quando in realtà devi esserlo, quindi ad esempio quando hai di fronte un cliente, un collezionista, quando devi vendere il tuo lavoro, spesso anche timido, ma soprattutto passivo, quindi tendi a delegare agli altri, appunto galleristi, clienti, editori e così via, il tuo successo, anziché prendere su di te la responsabilità del tuo successo e quindi agire in prima persona. Quindi magari ti sarai riconosciuto in almeno una o più delle etichette, delle credenze che abbiamo visto finora. La conseguenza di tutto questo è che se confermerai ovviamente agli altri i loro pregiudizi, perderai molti treni. Quindi ricorda, il primo nemico giurato alla tua carriera non sono tanto le tue opere, ma soprattutto il modo in cui ti poni sul mercato, come fotografo, ma soprattutto come artista. Quindi quello che dovremo fare sarà di passare dal vecchio paradigma al nuovo paradigma. In particolare, dovrai far tuo il concetto che i fotografi e gli artisti non vengono scoperti, ma sei tu che devi creare le condizioni per attirare clienti, vendite, fama e reputazione. Quindi il ruolo del fotografo artista passivo, che aspetta sempre di essere scoperto e che tende a mettere la sua carriera sempre nelle mani di altri, è definitivamente morto e sepolto. Proprio perché, come abbiamo visto, c'è troppa competizione in giro, con il web oggi puoi veramente arrivare dappertutto, quindi non hai più scuse, ma soprattutto, ricordalo, gli intermediari, agenti, gallaristi, curatori e consulenti, cercano artisti proattivi e determinati. Quindi quale sarà la trasformazione potente che dovrai fare all'interno di questo percorso? Beh, sicuramente dovrai diventare bravo negli affari e dotato di senso pratico. Dopodiché, dovrai cercare un metodo mirato, strategico, che non vuol dire necessariamente facile, per guadagnare, quindi per sostenere la tua carriera. Dopodiché, un'altra zavorra di cui ti dovrai assolutamente liberare è il fatto di volere sempre essere accettato a tutti i costi. Ricorda che è più importante il risultato finale, quindi la vendita di un'opera, piuttosto che 10 complimenti gratuiti o 10 recensioni in lusenghiere. Purtroppo, nel sistema dell'arte, spesso, gli artisti e fotografi tendono a privilegiare i complimenti, le pacche sulle spalle, le recensioni in lusenghiere, piuttosto che puntare ad obiettivi molto più concreti e a lungo termine, come ad esempio la vendita delle proprie opere. Dopodiché, dovrai diventare capace di prendere decisioni strategiche. Dovrai anche nutrire delle aspettative realistiche sul tuo futuro. Dopodiché, dovrai diventare capace, dovrai imparare ad accettare compromessi e quindi fare in modo che il tuo comportamento vada in direzione degli affari e soprattutto non li danneggi. inoltre, dovrai diventare anche furbo e scatto, perché no, quando la situazione te lo richiederà, quindi soprattutto quando ti troverai di fronte a un cliente o a un collezionista e quindi ti troverai in una fase cruciale della vendita vera e propria. Infine, dovrai diventare proattivo e questo, se vogliamo, è certamente l'aspetto più importante, quindi dovrai smetterla di delegare tutto agli altri, i classici intermediari, ma cominciare davvero ad agire in prima persona. Se raggiungerai questo tipo di transizione, di trasformazione all'interno di questo percorso che faremo insieme, avrai fatto bingo e certamente sarai avanti anni luce rispetto agli altri artisti e agli altri fotografi che operano e competono nel tuo stesso mercato di riferimento. Bene, eccoci di nuovo qua, quindi in questo video abbiamo visto quali sono alcuni degli ostacoli, dei falsi miti, delle credenze che incontrano oggi i fotografi che vogliono monetizzare appunto anche il proprio lato artistico creativo, vendendo le loro opere fotografiche nel mercato dell'arte contemporanea ma ovviamente ognuno ha la sua situazione quindi la tua situazione avrà un contesto e un punto di partenza differente magari da quello che può essere il contesto e la situazione di un altro fotografo e quindi è giusto capire dove tu ti trovi in questo esatto momento, quali sono le difficoltà che magari stai realmente incontrando o magari che hai incontrato nel corso degli anni e nello sviluppo appunto della tua carriera di fotografo artista o magari anche quali sono i dubbi che magari ti stanno bloccando in questo momento di riuscire a vendere con successo le tue immagini nel mercato dell'arte contemporanea e proprio per questo motivo come ti accennavo all'inizio da questo momento puoi prenotare una consulenza strategica completamente gratuita di 45 minuti con me o con un membro del mio staff come si svolgerà questa consulenza? beh chiaramente da prima ci incontreremo o via telefono oppure in videochiamata su Skype dopodiché andremo a diagnosticare quella che è la tua situazione attuale quindi gli ostacoli problemi dubbi che hai in questo momento fatto questo cercheremo di capire insieme se il nostro modello di lavoro si adatta alla tua situazione specifica e quindi sostanzialmente se possiamo esserti d'aiuto fatto questo andremo quindi a stilare una mappa completa un percorso step by step per poterti appunto aiutare a raggiungere passo passo l'obiettivo e gli obiettivi che ti sei prefissati quindi fin da ti saranno i 45 minuti meglio spesi meglio investiti quest'anno però per far questo ti chiedo di cliccare sul bottone ma soprattutto di compilare un breve questionario quindi ti faremo prima di entrare in consulenza di fissare la consulenza gratuita ti faremo delle domande le risposte che ci darai saranno per noi davvero fondamentali perché ci aiuteranno ad arrivare preparati sostanzialmente in consulenza e quindi già dalle risposte che darai potremo capire in linea di massima se possiamo esserti d'aiuto o meno quindi mi raccomando rispondi alle domande che ti facciamo sono poche domande questo soprattutto perché ovviamente voglio essere molto chiaro in questo e molto onesto noi non prendiamo tutti in consulenza non diamo a tutti la possibilità di avere una consulenza gratuita direttamente con me o con un membro del mio staff quindi il primo step obbligato in assoluto è quello appunto di rispondere alle domande che ti faremo fatto questo se e soltanto se riterremo di poterti essere d'aiuto te lo ripeto allora ci incontreremo in consulenza privata per approfondire al meglio la tua situazione e quindi per aiutarti a stilare un piano d'azione passo passo quindi clicca sul bottone qui sotto e prenota la tua consulenza noi ci vediamo dall'altra parte a stilare un po'